Settimana senza soste quella in corso perché l'impegno infrasettimanale di Team Cup e l'impegno di sabato di campionato contro la Lazio non consentono a Leonardo di concedere giorni di riposo e quindi rientrati nella notte da Roma dopo la vittoria nel match di semifinale contro i giallorossi squadra subito al lavoro questa mattina con il gruppo diviso in due blocchi, protagonisti della vittoriosa impresa dell'Olimpico che hanno svolto del lavoro prevalentemente all'interno mentre all'esterno 90 minuti di lavoro per tutti gli altri con attenzione particolare alle condizioni di Samoletto e Tiago Motta per loro previsto un lavoro personalizzato ricordiamo che i due per differenti motivi non hanno giocato, un problema a una caviglia per Samoletto Tiago è partito per la trasferta ma non è stato rischiato, non è ancora al meglio della condizione Si diceva per gli altri invece pallone protagonista con primi movimenti e primi lavori per preparare la sfida contro la Lazio in programma nel pomeriggio di sabato, vigilia di Pasqua Lavoro ancora parte per David Suazzo che insieme a Walter Samol fa parte del gruppo di chi sta lavorando pronto per poter rientrare anche se nel caso di Walter Samoletto ormai il lavoro con i compagni è sistematico ed è imminente una convocazione per un impegno ufficiale ovviamente prime giornate di recupero per Ivan Ramiro Cordoba operato al Minisco nei giorni scorsi domani si replica ancora sperando sempre con queste condizioni atmosferiche ottimali un allenamento programmato in mattinata Per tutte le altre notizie invece sulla giornata dell'Inter vi invitiamo come di consueto a seguire gli appuntamenti con le informazioni di Inter Channel